inferno di dante lo spettacolo più visto torna rinnovato alle gole dell'alcantara inferno di dante diretto da giovanni ampuso dal 27 luglio al 27 agosto dal giovedì alla domenica alle gole dell'alcantara doppio spettacolo alle 20 e 30 e alle 22 inferno di dante prevendita a biglietti box office sicilia punto it